Oggi vi insegno a preparare i gnocchi formaggiosi. La lista degli ingredienti la trovate nella descrizione del video. Prendete gli gnocchi, anche congelati vanno bene, e metteteli in una ciotola. Conditele con del sale fine e versate circa un litro e mezzo di acqua bollente. Adesso fate aspettate circa tre minuti mescolando di tanto in tanto. Dopodiché scolate via l'acqua E iniziate a condire gli gnocchi con circa due cucchiai d'olio Noce moscata grattugiata al momento Io ne metto tantissime perché a noi piace così Aggiungete il formaggio grattugiato a piacere Io ho usato della bevanda vegetale di riso, ma potete usare anche della panna tradizionale Mescolate bene e trasferite gli gnocchi nella teglia della vostra frigidrice d'aria In un unico strato ben livellato Cuocete per circa dieci minuti a centottanta gradi Dopodiché aggiungete il vostro formaggio preferito sulla superficie In questo caso del galbanino Ma andrà bene anche dell'asiago o della fontina E ripassate in frigidrice d'aria cinque minuti a centottanta gradi Gli gnocchi sono così pronti e filanti Se volete potete preparare tutta la preparazione in anticipo E fare l'ultima grattinatura solo al momento di andare in tavola Se vi è piaciuto il video lasciatevi un cuoricino e un commento Grazie alla prossima